Si conoscerà il 15 ottobre il destino della casa anziani di contrada caduta a Capodorlando. Quel giorno alle 16 infatti verranno aperte al municipio le buste delle offerte per l'acquisizione dell'immobile che l'amministrazione ha deciso di dismettere dopo che per 35 anni non sono stati reperiti i fondi per il completamento dell'opera. Sulla carta l'acquirente c'è già e proprio in quest'ottica è stata ridoccata al ribasso la cifra spropositata con la quale il manufatto era stato inserito nell'elenco dei beni alienabili, ma la scelta di amministrazione del Consiglio Comunale è stata quella di dare ancora possibilità, qualora bene fossero, di partecipare alla gara ad ulteriori acquirenti. Al momento l'interesse noto è quello della Erno S.p.A., azienda leader del settore tessile che ha annunciato l'interesse a trasformare la Casa Albergo in una fabbrica con circa 200 posti di lavoro da avviare. Il prezzo a base di gara è quello noto, 960 mila euro, che l'amministrazione comunale ha deciso di dirottare tutti per estinguere il mutuo acceso nei mesi scorsi per la riqualificazione del lungomare. Chiunque quindi potrà offrire più del prezzo stabilito dal Consiglio Comunale dieci giorni fa. Ma non sarà solo l'offerta economica a decidere il vincitore della gara. Il bando prevede infatti che la Commissione valuti ed attribuisca punteggi in base al tipo di investimento. Così fino a 10 punti verranno assegnati all'offerente che presenterà progetto di recupero ambientale e architettonico dei due corpi di fabbrica, 8 punti valgono la previsione di opere di viabilità di accesso, fino a 20 punti la durata dell'investimento, oltre 10 anni, e fino a 30 punti il numero di occupati che saranno assorbiti. La destinazione urbanistica dovrà essere quella socioassistenziale, sanitaria, turistica, produttiva ed economico-commerciale. Entro la mattina del 15 ottobre tutte le offerte dovranno prevenire al Comune Orlandino. Pomeriggio le buste saranno aperte e si procederà all'assegnazione dell'opera.